zombie apocalypse bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video io sono xyuder e io sono pami ragazzi è arrivata oggi finalmente la nuovissima nuovissima tastiera che tutti aspettavamo con ansia eravamo lì che boccheggiavamo da quanto la volevamo ragazzi la nuova tastiera che adesso la pami ti fa vedere direttamente dalla trust tastiera meccanica ragazzi modello gxt cada 890 metti sotto metti sotto guarda che meraviglia guarda che siamo appena arrivati dalle vacanze non potevo non potevo non farlo perché la voglio troppo troppo provare e quindi voglio fare insieme a voi l'unboxing è pesantissima pesantissima è una cosa incredibile ragazzi è più pesante di due mattoni questo vuol dire che è tanta tanta roba vediamo vediamo faccela vede faccela vede subito così di prepotenza andiamo a vederla ragazzi attenzione mettiamoci tieni apri apri è troppo bella è troppo bella non posso non posso non posso non posso guarda l'acqua questa è una tastiera me io non ho una tastiera meccanica non ho mai visto una tastiera meccanica cioè non ho mai provato una tastiera meccanica ma quanta roba che c'è no vabbè raga vabbè ma guarda che meraviglia raga aspetta che c'è la adesso mi cade GXT890 la tenga signorina per favore la tenga ragazzi la proviamo a collegare questa è una tastiera che è all'avanguardia per il videogiocatore professionale ragazzi io non sono assolutamente videogiocatore professionista ma si amo mi stai sbrindellando tutta la sbrindellata stavo dicendo se mi metti sotto mi perde la cosa questa tastiera ragazzi è completamente personalizzabile in tutti i suoi cosa stai facendo cos'è il cartellino non è una maglietta ragazzi è completamente cosa fa completamente personalizzabile in ogni suo tasto ragazzi tempo di risposta di ogni tasto dimano te il tempo di risposta di ogni tasto immediato no cos'è immediato non si arrampichi i suoi vetri 0,3 millesimi di secolo non ho ancora schiacciato fammi schiacciare scusa perché hai schiacciato prima tu pro scusa pro porca senti che casino senti che proviamo a collegarla proviamo a collegarla per favore colleghi il cavo usb alla suddetta porta usb questa tastiera ragazzi viene venduta anche con tanto di software incorporato appunto perché ha la particolarità che potete configurare ogni singolo tasto secondo le vostre esigenze ovviamente ragazzi qua in descrizione troverete il link che vi reindirizzerà al sito di trust slash gaming dove potrete anche voi acquistare questa gxtc da 890 noi ovviamente attaccala anche da davanti e adesso momentaneamente per provarla fiscale quando non deve essere fiscale vediamo un po' vediamo un po' cosa succede vediamo se si illumina pronta ha fatto blim blim aspetta eh aspetta 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 si è illuminato tutto è tutto bianco is all white ragazzi voi probabilmente non lo vedete bene si è acceso il loghino di trust davanti ma questo è un surgulo fammi vedere come si fa per fargli fare le luci colorate non lo so neanche io non lo so ecco ragazzi gli ho detto fammi vedere le luci colorate devo aver cliccato qualcosa avevo inchiodato la registrazione comunque ragazzi questa è veramente il top del top meravigliosa per il gaming ragazzi io ve lo ricordo sempre se volete acquistare questi prodotti sul sito di trust troverete il catalogo completo vi ricordo anche che durante le mie live ogni tanto in chat appariranno dei link che vi reindirizzeranno ad amazon dove troverete i prodotti originali se volete acquistarli i prodotti originali trust però scontati anche del 40% quindi utilizzerete il mio codice personale per portarvi a casa un prodotto anche a 30 35 euro in meno beh amore mio direi che per oggi è veramente veramente tutto ragazzi io ho la pami e la tastiera vi auguriamo un buon proseguimento e noi ci vediamo in live a presto ciao No!